che canta una canzone dedicata a Corrado Corrida che si intitola Bugiardo e Incosciente Tu dormi e sono qui da quanto non lo so so che affondo così dentro un odio che ho a tratti sentirei di svegliarti ma poi ci penso e dico no ora è meglio di no ti guardo mentre sei abbandonato lì odio tutto di te oramai è così e te lo griderò e tu saprai il perché non c'è niente fin qui che salverai di te certo visto così da vicino c'è il sonno che ti dà un'aria da bambino certo visto così da vicino vicino che bambino che sei guardo gli occhi che hai e le ciglia che hai le ciglia lunghe in cui imprigionavi me bugiardo più che mai più incosciente che mai che tristezza però un amore con te e ti odio di più perché alle altre tu non hai dato mai i giorni tristi e bui quelle certo che no non correvano qui a consolare i dubbi da sì e a vederti così da vicino vicino c'è il sonno che ti dà un'aria da bambino e a vederti così da vicino vicino che c'è il sonno che ti dà un'aria da bambino io ti odio e fra un po' quando ti sveglierai basta non tacerò tanto inutile ormai e sceglierò per te quelle parole che fanno male di più vanno in fondo di più me ne vado dirò ma un rimpianto ce l'ho avere amato te senza un vero perché non so cosa darei per non dovere mai pensare che sono stata insieme a te e a vederti così da vicino c'è il sonno che ti dà un'aria da bambino e a vederti così da vicino vicino che bambino che sei e ti muovi e so già che un sospiro farai la testa girerai i pugni allargerai e tra un secondo tu la bocca schiuderai e quasi sveglio poi il mio nome dirai ecco guarda sono qui occhi non so di te ma questa volta no non cederò perché è quasi dolce sai poter gridare che nessuno al mondo mai ti odierà più di me sto per farlo però ti svegli al tuo richiamo rispondo sono qui amore mio ti amo sto per farlo però ti svegli al tuo richiamo rispondo sono qui amore mio ti amo grazie brava brava complimenti allora nel frattempo i punti vengono raccolti anche perché poi noi domani saremo nuovamente qui su Canal Italia per ascoltare gli altri dieci che si esibiranno e poi da questi dieci da tutti i ragazzi che abbiamo ascoltato verrà fuori il vincitore di questa prima edizione di Music School a questo punto ringraziamo la giuria la dottoressa Alberti la nostra madrina che ritroveremo sicuramente anche domani sera qui su Canal Italia e poi ringraziamo insomma tutti i ragazzi le scuole e tutte le persone che hanno seguito Music School proprio dall'inizio dalle selezioni che sono state fatte precedentemente a questo punto è tutto bezzo alle donne io ovviamente saluto e l'appuntamento quindi per domani sera per domani sempre qui su Canal Italia ciao a tutti ciao 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 ciao